Per quel che riguarda invece la componente religiosa, legata all'obbligo della verginità, spesso viene vissuta come una crisi, soprattutto dai ragazzi che sono più religiosi rispetto ad altri. Come influisce appunto questa componente? Esattamente come ho descritto, il valore religioso può entrare e governare, come se lo governasse dall'esterno il mio cervello e quindi le mie scelte, e questa è fonte di sofferenza, oppure può essere accolto come fonte di piacere e se il comandamento mi diventa fonte di piacere non faccio nessuna fatica a seguirlo. Questa differenza mi permette di catalogare le persone che sembrano rispettare il dovere in due mondi diversi, una parte sta male, un'altra parte sta bene. O si illude di star bene? Sta bene, sta bene quando si attribuisce la libera scelta costantemente. Guai se noi dovessimo perdere questa facoltà. Quella di attribuirci la libertà di scegliere, è proprio la religione che ci aiuta a capire quanto è importante questo e ne parla molto molto spesso, parla di libero arbitrio come componente essenziale, parla della libertà dell'uomo nel peccare. È da qui che può venire la responsabilizzazione. E allora se la libertà ha da esserci è proprio la libertà di cambiare, sia pure in teoria quando sarà e se sarà, ma questo mi dà la libertà di ogni singolo gesto, che non è più la risposta a un obbligo, ma è la ricerca del piacere, finché c'è.